Una gola di Mancuso in pieno recupero al 49esimo della ripresa regala tre punti importanti alla Licesa, al Galli contro il Baveno. Il risultato più giusto sarebbe stato oggettivamente il pareggio, un primo tempo in cui la squadra ospite era partita meglio all'undicesimo. Aveva trovato il vantaggio a coronamento di una splendida azione corale, infatti Mancuso dopo il velo di un compagno aveva battuto per il vantaggio della Licesa. Al 16esimo proteste del Baveno per un presunto tocco di mano sul tiro di Salsano. Al 19esimo Toffolini a contropiede, bravo Boato a bloccare la sfera in due tempi. Al 32esimo sugli sviluppi di una punizione sinistro ad incrociare di Mancuso che non va distante dal palo. Al 39esimo Salsano appoggia dietro a Boatenghi dal suo tiro però è debole centrale. Nella ripresa cresce il Baveno al decimo cross dalla destra di Scocimaro. Cerruti si gira ma Cerruti copre lo specchio della porta ed evita il pareggio al 19esimo. Spunto di Ramaglio, palla arretrata per Salsano che però calcia alle stelle da ottima posizione. Al 30esimo l'ex della romettiense Cerano troverebbe il gol del pareggio. Il direttore di gara però annula per una spinta presunta nei confronti di Ramundo. Le proteste però durano poco perché un minuto dopo c'è un calcio di rigore netto per il Baveno. Fallo su Lavelli, dal dischetto si presenta Salsano che spiazza Cerruti per il gol dell'1-1. Il Baveno prova a vincere la partita, ci sono anche un paio di situazioni interessanti con il protagonista Salsano. Nel finale però la squadra di Pistardo si sbilancia e al 49esimo viene trafitta da Mancuso che salta netto Boato e deposita in retta il gol dei tre punti della Licese.